creare il lavoro. E qui con noi in studio è la professora Giuseppe Di Taranto, economista dell'Università Luis Guido Carli di Roma. Professore, buongiorno. Ha sentito nell'intervista che cosa dice Anna Maria Furlan, un po' una critica a tutto campo sui temi dell'occupazione. Lei che ne pensa? Sì, è il nostro problema più importante oggi, l'occupazione. Io vorrei dare un dato che a me sembra molto rappresentativo, cioè che il reddito disponibile degli italiani da 25 anni è sempre lo stesso, non da due anni, da 25. E questo è dovuto anche all'incremento della povertà che c'è in Italia. Noi oggi lo sappiamo bene, abbiamo 5 milioni in povertà assoluta di italiani più 3 milioni di povertà relativa. Quindi bisogna insistere molto sull'incremento dell'occupazione. Questo può avvenire soltanto attraverso gli investimenti. La Furlan dava un dato molto preciso, 400 mila persone. Penso che 400 mila persone possono essere occupate soltanto se sblocchiamo gli investimenti in edilizia in Italia, è un numero sicuramente considerevole. Importante, importante. Senta, invece andiamo appunto sempre sui numeri dell'economia. Allora, la Commissione europea ha detto che l'Italia nel 2019 non crescerà come precedentemente annunciato dell'1,2%, ma l'incremento sarà dello 0,2%, quindi un punto percentuale in meno. Che ne dice di questi dati? Dico che sarebbe molto interessante capire come sono fatte queste previsioni, perché in questi giorni abbiamo visto previsioni che vanno da quelle del governo, un incremento del 1%, fino allo 0% del REF, passando attraverso Banca Italia, Fondo Monetario allo 0,6% e all'ufficio parlamentare di bilancio allo 0,4%. E com'è possibile che ci sia tutta questa confusione di cifre e di valutazioni? Lei ha perfettamente ragione. Mi lasci dire che lo stesso Fondo Monetario per l'anno scorso, quindi abbiamo i dati conclusivi dell'anno, aveva previsto uno sviluppo dell'Unione Europea, quindi per carità non parliamo soltanto del nostro paese, di circa il 2,4%, poi l'anno si è chiuso con l'1,2%. Tra l'altro queste previsioni sono pericolose, perché non dimentichiamo che proprio lo spread è salito in questi giorni a 2,80% dopo queste previsioni. Quindi io dico sempre che bisogna essere molto cauti nella comunicazione economica, perché loro fanno le previsioni e noi italiani paghiamo, perché sale lo spread, dobbiamo pagare più interessi sul titolo pubblico e sui titoli pubblici e alla fine siamo noi che dobbiamo. Professore, in chiusura della nostra chiacchierata, un consiglio che lei si sentirebbe di dare al governo? Guardi, io se devo dire ciò che penso questo voleva essere il governo del cambiamento, e mi pare che lo sia. Allora, ho dato prima quel dato interessante, cioè sono 25 anni che sostanzialmente i redditi sono quelli, allora io dico bisogna essere attendisti, vediamo cosa succede, perché sicuramente sia quota 100 da una parte, sia il reddito di cittadinanza, sono misure nuove, per esempio il reddito di cittadinanza era necessario attuarlo perché sta in tutta Europa, non sta soltanto in alcuni paesi, pensi che l'unico che ancora non ce l'ha è soltanto la Grecia. Quindi sono provvedimenti che tra l'altro erano previsti dall'Unione Europea attraverso il pilastro dei cosiddetti diritti sociali che è stato approvato nel 2017, ma pensi addirittura previsti già dal trattato di Maastricht. Quindi io dico, aspettiamo, vediamo se questa scommessa sarà vinta o sarà persa. Ma quanto aspettiamo? Secondo lei qual è un tema? Il problema è la realizzazione di questi investimenti. Guardi, non si dice mai, invece secondo me è un punto fondamentale, che un paio di mesi fa il primo ministro ha riunito nella cabina di regia tutte le partecipate, le quali hanno sostanzialmente quasi promesso, mi permettevi di dire quasi, che loro investiranno... Partecipate, spieghiamo a chi ci ascolta e chi ci vede, sono le aziende ovviamente. E' di Terna, Enel, eccetera. Hanno sostanzialmente dichiarato che loro avrebbero investito in 5 anni oltre 20 miliardi, più i 15 previsti dal DEF, quindi 5 ogni anno come investimenti pubblici, beh, è una quota rilevante. Se questa scommessa verrà realizzata, io sono convinto che l'occupazione insieme agli altri provvedimenti... Si rimetterà in moto. Si rimetterà sicuramente in moto. Grazie, professore. Grazie a lei. Grazie. Luigi, parto da te. Stamattina, quindi, questa manifestazione di Cigelle Cislegui, l'hai sentito le parole del segretario...